Siamo con Fabione che sta cercando di rubare un brazzaletto ma letteralmente rubare perché voleva spaccare la vetrina ecco la prima cosa che voglio capire siamo chi io parlo a parlare al voi mi dà del voi ma io partecipo hai capito? ah ho capito capito si cerchiamo di portare via un braccialetto quattordicesimo al dipstech si ok quinto un altro torneo ho beccato un po' di quattro in faccia infatti ho dormito schiacciato stanotte e niente ci proviamo fino all'ultimo fino all'ultimo evento adesso al turbo vediamo se ce la facciamo se ce la fai perché io non partecipo ed essendo turbo dovrei vingerlo in fretta quindi vi lascio e vado a vingerlo in fretta grazie vai 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 ciao a tutti